Buongiorno a tutti, io sono Sergio Talamo, sono direttore della comunicazione dell'editoria della trasparenza del Formez, Formez-PA è una struttura in-house del Ministero della Pubblica Amministrazione. E' qui con me l'amico Francesco Di Costanzo, presidente di Pia Social. Vogliamo descrivere in breve tutto ciò che si sta muovendo, ed è tanto, dal punto di vista della nuova comunicazione pubblica italiana, che è legata ad una fase, la fase della trasparenza. La trasparenza totale. La riforma Madia, dal 2015 al 2017, Mariana Madia è la Ministra della Pubblica Amministrazione Italiana, che ha dato il suo nome ad un cambiamento profondo della legislazione, che si basa soprattutto su tre principi. La centralità del cittadino e del servizio al cittadino, la Pia Digital First, quindi la digitalizzazione come metodo per ottenere questi obiettivi, e la partecipazione piena del cittadino ai processi amministrativi. Questo tipo di impostazione è sforciato in una legge, che è stata definita il Freedom of Information Act italiano, il FOIA italiano, che è una legge che praticamente dà la possibilità ad ogni cittadino di accedere a qualsiasi atto della pubblica amministrazione, escluse delle eccezioni precise e catalogate. Siamo nell'era quindi della casa di letto, della trasparenza totale. Non solo, il Ministero della pubblica amministrazione ha precisato che la Pia deve avere un dialogo cooperativo con il cittadino, cioè nel senso che deve arrivare con lui a definire quali siano le modalità e gli obiettivi dell'accesso, deve pubblicare tutto ciò che il cittadino può avere interesse a leggere anche prima che il cittadino faccia questa richiesta, questa modalità si chiama pubblicazione proattiva e indica anche i social network come uno degli strumenti privilegiati per questo tipo di lavoro. Il Formez infatti in collaborazione con Pia Social ha editato un ebook in progress, lo abbiamo definito, cioè aggiornato ogni sei mesi in cui sono censite tutte le migliori esperienze di uso dei social network da parte delle pubbliche amministrazioni, che sono ormai tante e sono ormai anche di altissima qualità. Per fare tutto questo, questo è un altro punto su cui noi siamo molto impegnati, serve una professionalità nuova, una professionalità che non è più ricalcata sui modelli passati, il nuovo giornalista pubblico, siamo in collaborazione con le associazioni rappresentative dei giornalisti, quindi il sindacato, federazione nazionale della stampa e l'ordine dei giornalisti, stiamo lavorando ad un nuovo profilo del giornalista pubblico, cioè dell'operatore dell'informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione. Questo è un passaggio fondamentale perché a gestire un rapporto con il cittadino così complesso, così evoluto e soprattutto basato sul dialogo a due vie, c'è bisogno di un professionista che abbia le carte in regola e che non si limiti quindi ad un rapporto stanco, ad un rapporto passivo attraverso i confronti di un interlocutore che invece la legislazione mette al centro dell'attività pubblica. Sì, grazie, grazie dell'invito, è un piacere ovviamente sia per l'Associazione Nazionale Pia Social, per me personalmente e per tutti coloro che ne fanno parte partecipare a questo evento. Noi siamo partiti in modo informale due anni fa nel novembre del 2015 con i primi stati generali della nuova comunicazione pubblica organizzati per la prima volta in Italia a Palazzo Chigi. È stato un evento molto importante che ha dato il là poi al gruppo di lavoro Pia Social, ancora operante, di cui fanno parte comunicatori, giornalisti, capi uffici stampa, social media manager, esperti di digitale e di comunicazione del governo, dalla Presidenza del Consiglio a tutti i ministeri fino a diverse strutture collegate appunto all'attività nazionale, al governo nazionale. Da lì siamo andati avanti partendo da dei principi molto banali probabilmente ma che avevano bisogno di entrare dentro la nostra pubblica amministrazione e quindi dire che la pubblica amministrazione deve stare dove sono i cittadini, quindi sui social, su Facebook, su Twitter, su Instagram, su YouTube, su LinkedIn solo per citare i più utilizzati, ma anche in chat, su WhatsApp, su Telegram, su Facebook Messenger, su Snapchat dove troviamo i più giovani. Quindi andare a parlare con i cittadini dove questi già si trovano anche per motivi privati. Poi abbiamo detto che non si chiede di essere esperti del web o guru della rete alla pubblica amministrazione, si chiede di essere punto di riferimento anche su questi strumenti per essere, come dire, sempre più vicini ai cittadini, così come dire che i social devono essere la normalità, la parte integrante dei piani di comunicazione pubblica. Il web e i social hanno cambiato tempi, modi, strumenti, linguaggi della nostra comunicazione. Come diceva Seggio, ci sono nuove professionalità che vanno riconosciute, quindi i social non sono un passatempo ma sono uno straordinario strumento di servizio pubblico e un grande alleato anche delle smart city. Cosa è successo in questi due anni? Molti ministeri sono arrivati sui social network, addirittura in chat ci sono ministeri che sono su Telegram, ci sono ministeri che hanno addirittura i bot su Facebook Messenger organizzati e costruiti internamente. Quindi c'è stata una grande rivoluzione, si usano i social, si usano le chat, si usa il web in generale per migliorare e rendere più immediato il rapporto con i cittadini e dare nuovi servizi. Noi abbiamo fatto un passo ulteriore perché rimanere solo a livello di governo non era come dire l'obiettivo principale e quindi abbiamo costituito un'associazione, la prima di questo genere che è l'associazione nazionale Pia Social che ha molti obiettivi, alcuni dei quali li ho già detti, riconoscere le nuove professionalità e creare e strutturare la più grande rete di nuova comunicazione a livello italiano e non solo. Oggi infatti potete andare sul nostro sito che è www.pasocial.info e su tutti i nostri profili social in chat e scoprirete che oggi la rete va oltre il governo. Ci sono comuni, regioni, aziende pubbliche, musei, istituzioni di vario tipo, anche aziende private, cittadini, amministratori pubblici. Insomma la rete è molto larga e colgo l'occasione di questo invito per dire che siamo a disposizione per trovare una rete anche di livello internazionale e dare il nostro contributo anche in questo senso perché noi pensiamo che la nuova comunicazione sia oggi una grande chance, una grande occasione da non perdere, sia per rimettere la comunicazione pubblica al centro delle politiche dei nostri governi ma anche per creare un vero nuovo rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.